Sono arrivati a Roma questa mattina con tre autobus di lavoratori e di sindacati della Treofan Battipaglia. C'è un clima di velata fiducia per la convocazione al Ministero. Infatti nel pomeriggio parteciperanno al tanto atteso tavolo di confronto che si svolgerà al Mise per discutere del loro futuro occupazionale. Alla riunione istituzionale ci dovrebbero essere tutte le parti interessate, compresi il Vice Premier Di Maio, i governatori della Campania De Luca e della Puglia Emiliano, ma soprattutto i rappresentanti della Gindal. Battipaglia non si tocca! Trauma! Trauma! Non si chiude! Trauma! Non si chiude!